4 gol tonfo e crisi aperta per il Foggia certificata dei numeri e da una nuova sconfitta con annessa valanga di gol al seguito che ridimensiona nettamente la squadra di Brambilla che dalla vigorito torna con le ossa rotte con una riflessione in sede societaria che si rende inevitabile dopo appena 5 giornate di campionato. Al Benevento peraltro rimaneggiato e privo di elementi cardine quali a Campora e Ferrara basta poco più di un quarto d'ora per mandare praticamente in archivio la pratica perché al sesto i padroni di casa sono già in vantaggio dopo un batti e ribatti in aria e Ocada a battere Perina e sbloccare la contesa. Al diciassettesimo la gara è già virtualmente chiusa Simonetti scappa via a sinistra e mette in mezzo dove Manconi viene colpevolmente lasciato solo e libero di battere a rete e trafiggere ancora Perina per il 2 a 0. Il Foggia al venticinquesimo ha la più ghiotta delle occasioni per rimettere il risultato in discussione. Biscardi entra in contatto con Salines e l'arbitro accorda il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Emma Usso che calcia male e consente al diciassettenne annunziante foggiano Doc di neutralizzare. In avvio di ripresa il Benevento si rende nuovamente minaccioso con un siluro dal limite di Manconi serve un super Perina per salvare il Foggia da una nuova capitolazione. La squadra di Brambilla si riaffaccia dalle parti di Nunziante al 53esimo. Il sinistro ad incrociare di Emma Usso va a sbattere sul palo interno. Passano pochi giri di lancetta e il Benevento fa tris. Sugli sviluppi di un angolo Zunno tocca ingenualmente col braccio e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Manconi che mette nell'angolino alla destra di Perina e firma il 3-0. Il Foggia è in bambola e la fotografia della confusione è quella scattata ad un quarto d'ora dal termine che porta la Mesta alla conclusione respinta da Perina. Nel finale Emma Usso, sempre lui, ci riprova col destro ma Nunziante è inserata super e si esalta. Poi nel terzo dei quattro minuti di recupero concessi Vezzoni falce in maniera netta la Mesta e l'arbitro non può fare altro che accordare il terzo rigore della serata. Sul dischetto questa volta va il subentrato Lanini che non sbaglia e cala il definitivo poker che manda in testa il Benevento e apre ufficialmente la crisi vera del Foggia. A lume di naso, mercoledì col Giuliano allo Zaccheria. Per Brambilla la sfida ha già il sapore del dentro o fuori. Grazie. 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 Grazie a tutti.